La discussione e anche le polemiche si sono accesse sul mese di rientro a scuola, ma posticipare l'inizio dell'attività didattica ad ottobre non risponde né ad esigenze didattiche né al mondo in cui vivono gli studenti di oggi. Da un punto di vista didattico, spostare all'1 ottobre significa rinunciare a quel tempo, in genere di due settimane, che serve per riannodare il percorso con l'anno precedente. Molto spesso, settembre è dedicato ai recuperi perché è rimasto indietro o alla ripresa di temi e concetti fondamentali per gli anni successivi. Si tratta di due settimane fondamentali per la socializzazione e, in molti casi, per l'adattamento in classe di bambini e ragazzi che iniziano un nuovo ciclo scolastico. Questo è il commento di Claudio Venditti, presidente del Forum Famiglie Calabria. Semmai, sarebbe opportuno variare le attività didattiche del primo periodo, pensando ad attività sul territorio o ad uscite didattiche, puntare sul qualificare le relazioni tra gli studenti e quelli tra scuola e territorio. Poi c'è il fattore sociale. Il mondo in cui vivono i bambini e i ragazzi oggi non è più come una volta. Da decenni la scuola, giustamente, è l'attività principale dei bambini e dei ragazzi. È il loro lavoro. Garantire luoghi sicuri e accoglienti non è una questione di clima o di mesi, ma di visione. Se la formazione integrale della persona, così come prevista dalle indicazioni nazionali, è la priorità per il paese, bisogna intervenire sui problemi strutturali degli edifici, sugli spazi, sull'articolazione delle attività, ma i ragazzi, soprattutto i più fragili, hanno il diritto di vedersi garantito un periodo scolastico congruo che, in Italia, non può avere durata inferiore ai 200 giorni di attività didattica.